Le cuffie Hi-Fi Stereo con connessione Bluetooth DJI 1300 BTR di Trevi sono uno strumento innovativo che ti permette di ascoltare musica, rispondere alle chiamate telefoniche e persino di fruire delle conversazioni Skype da PC. Vediamo nel dettaglio le sue innumerevoli funzioni. È un lettore di file MP3 da microSD card fino a 32 GB. È dotata di radio FM integrata. Basta sintonizzarsi per accedere alla stazione radio preferita. È compatibile con smartphone tramite connessione Bluetooth. Ti permette di rispondere alle telefonate senza dover tenere il dispositivo in mano, grazie al tasto diretto per accettare la chiamata e al mini microfono su cavo per conversazione telefonica. Utilizza DJI 1300 BTR di Trevi anche per le tue conversazioni Skype da PC. Grazie all'archetto ritraibile puoi riporla con un ingombro minimo. Grazie.